Questa sessione considera una serie di problemi di misurazione, cioè di monitoraggio di fenomeni o che sono nuovi o che è una novità il fatto che noi cerchiamo di misurarli, riguardano gli sviluppi ambientali, gli sviluppi ambientali molto spesso connessi col problema del cambiamento climatico e della sostenibilità. Sono tutti temi molto importanti ma su cui le misurazioni sono ancora indietro e dobbiamo lavorare. La prima relazione di un esperto della Banca d'Italia riguarda il tema della finanza sostenibile, della cosiddetta finanza sostenibile e del tipo di informazioni che servono nel mondo delle nuove missioni finanziarie che considerano la sostenibilità. Il secondo intervento di un'esperta di Confindustria vuole vedere la sostenibilità ambientale sempre dal lato delle imprese. Quella delle imprese è un punto di vista importante anche considerando come si misura e come si possono avere dati solidi sulla sostenibilità vista dal lato delle imprese. La terza relazione riguarda l'economia circolare. Si parla oggi molto di economia circolare, un po' tutti forse abbiamo dei concetti relativamente generici di economia circolare. Andarla a misurare, andare a misurare insieme di fenomeni che ci permettono di capire quanto la circolarità stia crescendo e come la circolarità si possa favorire è un tema nuovo, in realtà non abbiamo ancora molte misure. Infine c'è il grande tema, ed è una relazione dell'Istat in collaborazione con l'ISPRA, il grande tema della misurazione degli ecosistemi e dei servizi che gli ecosistemi danno all'uomo, all'insieme delle attività umane. Anche questi vanno misurati sia per misurarne l'attuale rilevanza sia per capirne l'evoluzione.